...manuale che ci permette esattamente di poter dimagrire. Io ho riordinato esattamente, secondo il metodo Pajamonte, utilizzando gli ingredienti sovrani, i condimenti sovrani, che si possono seguire nella dieta, le ho racchiusi tutte in semplici ricette elaborate 19 che vanno dal pesce alla carne, la pasta, infatizzando un po' i prodotti stagionali, dando lustro esattamente ai metodi di cottura e perché no divertirsi personalizzando anche secondo propria voglia. Quindi basta con la semplice zucchina fatta in acqua, si può anche dimagrire mangiando e divertendo. Sicuramente, sicuramente. Quindi visto che qui ci sono già i trucchi, mi pare di aver capito, per dimagrire, ci sono anche delle ricette fatte apposta, forse evitare anche di andare dal dietologo? No, parecchie persone hanno bisogno dell'appoggio di un dietologo per seguire il regime dietetico, ma anche tante altre persone ne hanno bisogno. Questo libro lo posso utilizzare sia chi ha bisogno di un dietologo, chi si rivolge a un dietologo, come un aiuto per capire i principi di base della dietetica, sia soprattutto di chi non ha bisogno di un dietologo e vuol seguire il proprio particolare regime dietetico. In questo caso basta solamente l'appoggio del proprio medico curante, che io come ho affermato nel libro, come ho detto nel libro, ma lo dico qui pubblicamente in trasmissione, è sempre giusto rivolgersi a un proprio professionista e non seguire mai un regime dietetico da solo. Quindi chi utilizza il libro, per favore, faccia sempre riferimento anche al proprio medico curante. Questa è la seconda edizione, la prima si è esaurita in pochissimi mesi addirittura. Sì, si è esaurita subito, istantaneamente. Edito dalla Hobby & Work, una casa editrice davvero di tutto rispetto, che pubblica anche altri libri, come ad esempio quello di Carlo Lucarelli, o il famoso Montagnac, di cui parlavamo poco fa. Io qui ho un libro di Paul Davis, invece, che dice come costruire una macchina ed esplorare il tempo. Ovviamente è un libro scritto in francese. Ho questo libro semplicemente perché questo è uno dei libri, uno degli autori, che lei da sempre ha amato. Sì, sono cresciuto con i libri. Quando andavo al liceo, leggevo assiduamente tutti i libri di Paul Davis. E che relazione abbiamo con La Dieta Perfetta, quindi? Perché? Che è successo? È successo che questa è l'edizione italiana, questa è l'edizione italiana del libro La Dieta Perfetta, e questa è l'edizione francese del libro La Dieta Perfetta. In Francia lo ha tradotto il professore Robert Lufti, che è uno dei più bravi, uno dei più eminenti scienziati francesi. Ebbene, Paul Davis pubblica, in Francia, pubblica pure per la mia stessa casa editrice. In Canada, ho visto che in Canada, la quotazione dei libri va di pari passo. Cioè, i libri di Paul Davis... E la vita che scrive, insomma. Paul Davis è un famoso autore, è un autorevole autore, che da una vita che scrive ha libri di successo. Ebbene, questo libro, il mio libro e il suo libro vanno di pari passo. Lei è un po' modesto, diciamo pure che il suo libro l'ha anche superato per diversi migliori. Ci sono stati giorni che il libro è arrivato anche al primo posto, il mio libro, rispetto al libro di Paul Davis. Però parliamo sempre come i libri di Edipi Sainz, non come Canada. Allora, noi poco fa parlavamo di vedere...